Sarà disponibile nelle varianti Berlina, Avant e Allroad la nuova Audi A6 che, grazie al restyling, è diventata più potente ed efficiente con un'ampia offerta di motorizzazioni. Si tratta della quarta generazione ed è sempre stata protagonista delle innovazioni tecniche della Casa dei Quattro Anelli. Nel mercato italiano la parte del leone la fa la Avant, ovvero la station wagon, in particolare con motore diesel. Risultano dunque interessanti i nuovi propulsori 2000 TDI Ultra, declinati in due versioni da 150 CV che fa registrare un consumo particolarmente basso di 4,2 litri di carburante ogni 100 km e 190 CV. Tra le novità anche sospensioni con molle leggere in ceramica e freni con pinze fisse in alluminio per le motorizzazioni più potenti. Molto abbiamo fatto anche nel campo dell'infotainment, abbiamo il nuovo sistema modulare di infotainment per i nostri modelli premium, abbiamo la trasmissione ad alta velocità LTE e così inoltre abbiamo applicato una nuova generazione di chip e inoltre abbiamo ottimizzato la connettività. Il raggiungimento della bellezza attraverso forme semplici è comunque la ricetta stilistica della 6, razionale nel pensiero e italiana nella linea, con una grande cura nei dettagli. Questo vale anche per la berlina, poco apprezzata in Italia e per la familiare multiuso all-road, che incarna in assoluto l'idea di auto tuttofare e tutto terreno, grazie alla trazione integrale 4 e che condivide la piattaforma tecnica della Avant. Grazie a tutti! Grazie a tutti!